L'ultimo singolo che anticipa l'album di Anna si chiama Bikini quindi rimane per quanto riguarda il discorso estivo in qualche modo rimane lì, i fan sembrano apprezzare lo spoiler Anna sta portando avanti questa strategia promozionale adesso c'è questa roba di pompe di benzina tutta agghindata c'è questo gioco molto in stile Barbie il film dove passano gli artisti a ricaricare la macchina sono i featuring che poi fanno il fotino e lo passano oddio, nel senso non lo so, mi è sembrata un po' cringe come cosa non lo so, va bene, mi sembra tutto incline per il progetto Anna mi domando se ce ne fosse bisogno è una bella spesa comunque e non è una cosa, oddio, così così che dici wow, oddio che immaginario oddio dove mi porti, oddio che rivoluzione oddio, cioè nel senso secondo me sto disco non è che farà chissà qual'esplosione non è che ci vedo tutto sto hype per il concept del disco cioè vedo magari in Anna hype quando per quanto riguarda la traccia singola lo spoiler, la parte tiktok quando esce la traccia cioè vedo un meccanismo diverso non lo so tutta sta roba secondo me non ha molto senso non porta a nulla, è solo un gioco inutile poteva fare un qualcosa di più interessante sicuramente poteva giocare un po' più a livello di immaginario e invece secondo me così facendo anzi, cioè è come se io vedo il trucco nel senso vuoi fare una magia ma mi fai vedere il trucco e quindi questa cosa qui un po' non a me non mi ha convinto poi magari ricordiamoci che questi sono artisti che si esibiscono per un gruppo di ragazzini sostanzialmente e di ragazzine quindi rimaniamo sempre su quell'ottica quindi anche lì boh, cioè sicuramente abbronzatissima e bellissima ha funzionato, sta funzionando quindi Bichini credo che rimarrà su quell'onda comunque vediamo però c'è nel senso ci sono artisti che funzionano più coi singoli che coi dischi cioè il fan medio di Anna non c'ha la cultura del disco quindi non lo so vediamo boh ciao, sono Andrea Daniele Signorelli se sei interessato al mondo digitale all'intelligenza artificiale ai social network alla realtà virtuale è aumentata e all'impatto della tecnologia sulla società hai trovato il podcast che fa per te si chiama Crash la chiave per il digitale lo trovi su tutte le piattaforme di podcast insieme cercheremo di capire qual è il futuro che ci attende è il futuro che ci attende